una persona in carrozzina dentro le amache in modo che uno una volta per tutte se lo gioca questo evento allora la prima cosa che facciamo è prendere un tappetino perché se abbiamo un tappetino sotto è meglio per me per me operatore perché posso spattere io i piedi io posso sbattere allora l'amaca è completamente stesa fantastico allora prendiamo edo piano piano si 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 avviciniamo proprio alla grande proprio sotto mettiamo così mettiamo vicinissimo così noi ok adesso piano piano vedo ti avvicini allora ti ricordo ok vedo vai ok vai è andata bollo fantastico forza forza fiore in gira che scherziamo allora abbiamo spostato lui che era più facile allora per mettere la palla allora abbiamo visto come si mette edo dentro stiamo facendo il video così